Ben ritrovati qui su Non Solo Fumetti, con un sueto appuntamento ovviamente in ritardo. Oggi primo videoacquisti di aprile 2023, videoacquisti non esagerato ma che comunque vede molta qualità più che quantità ovviamente. Direi di non cianciare tanto e di partire subito con i manga. Ho terminato finalmente il mio recupero sul manga a detta dei più migliore di Naoki Urosawa, Pluto, numeri dal 4 al numero 8. Terminato quindi il recupero, manga per il quale le aspettative sono moltissime, vi ricordo che è in programma l'uscita anche della serie su Netflix, quindi ovviamente mi sto anche organizzando per poter poi eventualmente commentarla insieme a voi. Ora che è stato messo tutto in saccoccia non mi resta che iniziare a leggerlo, devo solo trovare il coraggio. Coraggio perché spesso e volentieri proprio quelle serie per le quali le mie aspettative sono sempre molto alte, tendo sempre un po' a temporeggiare. Questa volta mi sono messo in testa di procedere e mangiammelo in due o tre bocconi. Non vi mostro i disegni dato che insomma non credo ci sia bisogno di presentazioni per il buon Naoki Urosawa. Ho detto già qualcosa in più nel mio scorso video acquisti, quindi se volete sentire qualche nozione in più andatevelo a vedere. Altro manga fresco fresco di uscita di questa settimana, Initial D di Shuichi Shigeno, editor J-Pop al prezzo di 12,90€. Ha colori anche le copertine sotto, la sovracoperta, molto belle. Questa in particolare la prima richiama la copertina del primo volume Tankobon uscito in Giappone nel novembre del 1995, mentre dietro potete trovare la copertina del secondo volume uscito a febbraio del 1996. Quindi storie, volumetti, due in uno si presume. L'introduzione è poi scritta dal buon Davione Nazionale, ve la mostro subito, eccola qui. Sinceramente mi aspettavo qualcosa di più succoso visto che si trattava di lui. Davione ha scritto appunto un'analisi sul protagonista, ovviamente il tutto fatto per non spoilerare nulla ai lettori, ma non è tanto questo per cui mi aspettavo di più, ma perché con le sue competenze secondo me avrebbe potuto già introdurci a questo mondo, arricchendo con qualche informazione in più questa sua introduzione. Boh, sarò io stronzo che non mi accontento mai, in ogni caso bisogna dire che in due facciatine con poco spazio andava fatta quindi una scelta sintetica e ovviamente ne è venuto sintetico pure il contenuto. Peccato secondo me perché quando Dario non spara stronzate a mero scopo di intrattenimento ovviamente e si mette a parlare seriamente, tira sempre fuori dei bellissimi collegamenti tra quello che è il manga e la cultura giapponese che almeno a me piacciono molto. La storia in questione si comporrà per questa edizione di ben 24 volumi, tutti di questa fattura, devo dire quindi serie piuttosto lunghetta e anche abbastanza costosetta data la molle di volumi. Credo però che questa storia li meriti tutti. Non so quanto voi conosciate il mondo delle corse clandestine in Giappone, diciamo che però io sono veramente curioso di approfondire questo argomento. Siccome il mondo delle JVM è un mondo che mi affascina molto, non sono un grande appassionato, non sono un appassionato sfegatato di motori, ma comunque me ne intendo già un pochettino, credo che dedicherò un video apposito a questa nuova uscita, proprio per approfondire tutte quelle tematiche riguardanti le vetture, le corse clandestine e anche dei gossozoku. Se siete curiosi attendete il mio video recensione che spero arrivi il più in fretta possibile. Passiamo ora al fumetto americano. Questa settimana appunto abbiamo dei recuperi belli succosi e che da tempo ormai se mi state seguendo sto continuando. Sto parlando in primis di Preacher, libro 6, guerra sotto al sole, dal titolo credo proprio che qui Cassidy lo vedremo bello profonderante. Bellissime queste copertine del buon e vecchio Glenn Fabry, questa del 97, veramente veramente bella. In questo volume abbiamo sempre Garth Ennis alla storia e Steve Dillon e Peter Snyberg ai disegni. Come al mio solito avrò topato la pronuncia ma amen chi se ne frega scusatemi. Sto continuando la lettura e sono arrivato al libro 4, finora posso solo continuare a dirvi di recuperare questo fumetto perché veramente merita sotto ogni punto di vista. Ogni personaggio da dire qualcosa, ogni fatto o accadimento all'interno dell'opera vi lascerà sbigottiti, è sempre pungente, senza peli sulla lingua, insomma il mio genere di fumetto preferito e che ovviamente quindi mi sento assolutamente di consigliarvi. Prossimo mega recupero come già da tempo vi dicevo e che sarebbe finito sugli scaffali della mia libreria, l'omnibus che non stavo nella pelle di leggere. Hellblazer, mega recupero, il ciclo completo della run di Garth Ennis e Steve Dillon, run che ha suggellato quindi la loro unione dal punto di vista artistico ovviamente e che ha consacrato il successo di questa incredibile accoppiata. Ora lo sgondoniamo insieme, eccolo qui, prezzo di 99€ per un bel bimattone per costruire da zero la vostra dimora. Questo bell'omnibus contiene i numeri dal 41 al 50, dal 52 all'83 e dal 129 al 133, nonché Hellblazer Special 1 e la graphic novel Earthland. Hellblazer, per chi non lo sapesse, è una serie solista tratta da Swamp Thing di Alan Moore che vede come protagonista il mago inglese John Constantine, questo in copertina. nome non nuovo perché ha visto un certo film con Ken Reeves del 2005. La storia quindi narra le gesta di John Constantine. Gatto. La storia qui contenuta narra le gesta di John Constantine e dalle storie qui contenute poi è stato tratto il film che vi ho appena nominato. Film che credo mi riguarderò anche a breve. Qui all'interno troveremo alcune delle storie più iconiche di questo personaggio che riscriveranno completamente quello che è lo scenario di vita, diciamo così, di John Constantine, unendo quindi horror, sopranaturale e dark fantasy tutti insieme. Una bomba, insomma. Era da tempo che volevo recuperarlo, diciamo che prima di iniziarlo dovrò finire Preacher, ancora ho due omnibus del Punisher che sono in coda di lettura e con calma comincerò anche questo. Sicuramente adesso per un po' diciamo che mi darò una calmata con gli omnibus sempre che ovviamente non li trovi a metà prezzo girovagando nell'internet. Vi mostro velocemente qualche tavola. Faccio anche qui attenzione a non aprirlo di netto per non rovinarlo. Sono appunto disegni sicuramente non dallo stile più moderno, direi. Credo comunque che se la storia poi meriti passerà tutto un attimino in secondo piano, quasi certamente. Procedendo con le pagine, secondo me poi iniziano ad intravedersi anche i disegni del buon Steve Tillon. Sicuramente se torniamo all'inizio vedremo un po' di differenza. Eccoci qui, adesso non so chi siano gli altri autori ma qui diciamo che si vede abbastanza l'impronta di Dillon. E direi che la faccenda comunque inizia già a cambiare, molto più piacevoli secondo me. Disegni che appunto per i primi numeri credo proprio non siano i suoi. E dato anche che Ennis e Dillon si sono conosciuti quando ormai la run di Ennis su Hellblazer era già cominciata. Quindi come dico sempre io, meglio tardi che mai. In ogni caso John Constantine, personaggio che almeno dal film ricordo mi aveva catturato moltissimo. Sono proprio curioso di vedere come Ennis e Dillon sapranno coinvolgermi anche questa volta. Andiamo oltre invece e vediamo fare il suo ritorno anche in questo video Star Wars. Questa volta invece con un volume fresco fresco d'uscita, direttamente da una galassia lontana, lontana. Sto parlando del volume L'Alba degli Jedi, appena uscito per Panini Comics. Volume al prezzo di 36 euro che contiene Star Wars Down of the Jedi Force Storm del 2012, dal 1 al 5, Down of the Jedi The Prisoner of Bogan del 2012 dal 1 al 5 e Down of the Jedi Force War del 2013 dal 1 al 5. Tre miniserie quindi da quello che ho capito che costituiscono insieme un'unica grande saga, interamente ovviamente qui contenuta, volume unico. Gli autori sono gli stessi della run Eredità. Nell'ultimo videoacquisto vi avevo mostrato infatti anche il quarto volume di Eredità intitolato Chi è Anya Solo? Anche se in particolare nel quarto volume che può essere letto a sé stante rispetto a tutto il ciclo di Eredità, i disegnatori e gli sceneggiatori non sono più gli stessi. Quindi John Ostrander e Jan Dursema. Ostrander e Dursema quindi che in questo caso ci raccontano una storia ambientata ben 25.000 anni prima della trilogia originale, epoca in cui non esistevano ancora i Jedi e i Sith, ma comunque già si combatteva per mantenere un equilibrio di quel misterioso potere conosciuto con il nome di Forza. Un volume che non vedo l'ora di leggere, sempre della collana Legends, come vedete qui sotto. Quindi, come vi ho già spiegato in precedenza, storie all'interno non canoniche, quindi non collegate alle trilogie successive. Vedremo quindi i primi utilizzatori della Forza, le prime spade laser all'opera e tutto ciò che conseguirà l'entrata in gioco di questi guerrieri che probabilmente, sparo proprio a casaccio ora, potrebbero essere i capostipiti delle due fazioni che vedremo in futuro, quindi Jedi e Sith. Sarà veramente così? Lo scopriremo. Vi mostro qualche tavola. Il volume l'ho già sfogliato prima, i disegni secondo me sono assolutamente fenomenali, tutti ad opera di Jean D'Ursema, disegnatore anche delle storie contenute nel primo e nel terzo volume di eredità. Potete vedere quindi un mondo dai tratti un attimino per i storici, guardate qui i tremors, vediamo quindi queste bestiacce che sembrano dei cazzo di dinosauri e andando avanti si vedono anche spuntare, proprio come potete vedere, le prime spade laser. Spade laser totalmente diverse dai modelli che siamo abituati a vedere. Un bel volume dunque, le premesse secondo me sembrano essere davvero molto buone. Non dobbiamo aspettarci richiami alla serie originale, direi, diciamo che dovrebbe essere un po' il racconto di come la forza ha dato vita al mondo di Star Wars al quale siamo abituati, o meglio forse a quella che dovrebbe essere la contrapposizione tra i lati proprio della forza. Fatemi sapere se a qualcuno piace anche Star Wars nei commenti. Abbiamo terminato quindi con questo volume i recuperi da fumetteria, quindi ora iniziamo ad aprire qualche bel pacchettino arrivato direttamente dall'internet. Primo pacchettino. Primo pacco che vi unboxo oggi, acquisto di un volume singolo, volume numero 9 di Preacher, cos'altro potrebbe essere se no, recuperato in aste ebay a 16 euro, spedito quindi comunque rispetto ai 20 tondi, sono 4 euro risparmiati ma che ci vanno comunque bene, volume che mi sembra in ottime condizioni, peccato qui probabilmente durante la spedizione il corriere con gli angoli e se fatto una pica, comunque ci può stare, nessun problema. Quasi pari al nuovo, quindi libro 9 intitolato Alamo, che contiene i numeri dal 59 al 66 della serie e che ci porta quindi alla conclusione della storia. Ora per completare la serie mi manca solo il libro 8 che probabilmente vi porterò la settimana prossima o nel prossimo video acquisti. Credo comunque di aver già parlato abbastanza di Preacher. Altro pacco invece arriva direttamente dal sito Panini, andiamo a sventrare lo scatolone. All'interno troviamo il bundle per il quale ho fatto l'ordine, Berserk numero 1 Variant e Duranki, ultima opera del maestro Ketaro Miura che mi mancava per avere un po' tutto quello che è uscito. Speriamo bene per questo Duranki, anche perché a parte l'opera omnia del maestro, l'unica che mi era un po' piaciuta è stata la leggenda del re lupo, le altre mi hanno fatto un po' cagare. Per dirvela tutta, quindi, Giganto Machia non mi era piaciuta per la caratterizzazione dei personaggi, peccato perché anche il world building sembrava davvero molto interessante, mentre Japan mi aveva fatto cagare sotto ogni aspetto possibile. Non ricordo degli aspetti che lo facessero risaltare. Mi dispiace per il maestro Miura e per Buronson, ma per me è un no totale. Vedremo quindi questo Duranki, che cosa ci racconterà. Incrocio le dita, insomma, sgamatevi qualche paginetta giusto per gustarvi l'occhio, dato che comunque, malgrado la storia, i disegni del buon Ketaro Miura sono sempre incredibili. Ah, qui abbiamo anche degli extra, fantastico. Il resto invece all'interno del pacco l'ho aggiunto per non pagare la spedizione. Abbiamo quindi la variant di Fire Force del primo volume, variante che ho preso con l'aspettativa che salga di prezzo, per poi comprare una bella Trueno AE86 e andare a driftare nelle Alpi Venete come solo il buon Keiichi Tuciglia saprebbe fare. Vi sto trollando ovviamente, al massimo rivendendola vi comprerò due bei pacchi di carta igienica. Il manga, a parte gli scherzi, dovrebbe essere molto carino, quindi mi sono detto proviamo questo numero uno variant. Comunque, variant davvero maranza direi. Infine, albetto numero 7, preso totalmente a caso, di Batman Death Metal, Ozzy Osbourne Edition. Non che sia un feticista di Ozzy, ma comunque mi piace davvero lui come personaggio, in ambito musicale, intendo, credo che sia il più pazzo sulla faccia della Terra, e credo anche che in passato e in futuro, gran pochi saranno i pazzi in culo come lui. Non so se lo conoscete un pochettino, altrimenti comunque vi consiglio di vedere il film sui moti di crew per rendervi conto anche di che cosa sto parlando, ma davvero tra più pistrelli decapitati in live e for me che finite nei buchi più strani del suo corpo, direi che a livello di pazzia e malessere in generale, lui in età giovanile non abbia avuto rivali. Quindi questa bella copertina dai tratti disturbanti mi piaceva un sacco, ed eccola qui, pronta per essere incorniciata. Carino anche il retro dai, un po' vintage. Ovviamente questo non significa che io appoggi i suoi comportamenti malsani, infatti come è consuetudine direi proprio che mi dissocio da tali atti di depravazione. Con questo cari amici per oggi è tutto, se vi sono piaciuti i miei recuperi fatemelo sapere qui sotto nei commenti, lasciate un bel like per supportarmi, mi farete davvero felice, iscrivetevi così sarò ancora più felice, io vi saluto e vi aspetto nei miei prossimi video, da un cazzo di nessuno è tutto, alla prossima, ciao!